Questo è interessante perché il modo in cui si incontrano le persone per accoppiarsi, per innamorarsi, per sposarsi, insomma per conoscersi, è cambiato di più negli ultimi vent'anni rispetto ai duemila anni precedenti. Questo è quanto fa notare The Atlantic con un articolo interessante dove cita un sociologo, aspettate me lo sono segnato, che si chiama Michael Rosenfield, che per gli ultimi dieci anni, col suo team, ha compilato una bella tabellina con tutte le modalità di incontro degli esseri umani tra di loro per capire se cambiava o meno sta vicenda. La cosa incredibile è che è cambiata sì un sacco, un bel po', un bel po'. Quindi la maggior parte delle coppie oggi credo americane, se riferite agli Stati Uniti o forse anche altri paesi, però secondo me è un trend abbastanza generalizzato, la maggior parte delle coppie si incontra oggi online. Il fenomeno interessante per me è per due motivi. Il primo perché anni fa, veramente una vita fa, avevo fatto questa roba che si chiamava codice internet che era un monologo nei teatri dove parlavo, no, di questo avvento di internet e una delle slide che mostravo era proprio il fatto che la gente iniziava a incontrarsi online. Dicevo ragazzi guardate che la gente si controlla e non è più un mondo virtuale, non esiste più il virtuale. E la gente ovviamente rideva, i giornalisti ci erano tutte cagate e quindi sono contento di vedere che sia successo, o meglio sono contento del fatto che la mia previsione si sia verificata. Sono molto meno contento invece di quelli che possono essere i futuri, il futuro, le future, il futuramento, il futurismo di questa vicenda e quali saranno le conseguenze insomma. Perché uno forse non se lo ricorda, magari i più sbarbati in ascolto non ce l'hanno presente come funzionava ai tempi, ma ai tempi miei se tu eri al liceo per dire, manca l'università perché poi internet è arrivato dopo, il cellulare non esisteva, non c'era social net, non c'era niente. Se vedevi una che, capito, ti piaceva, come facevi? O avevi, ipotesi 1, il coraggio di andare lì, fermarla e dire, scusa sai dov'è l'aula 107 per l'esame di diritto costituzionale? E però il rischio è che quella ti due piccava brutalmente, pam, in faccia e che cazzo sei, no, scusa, no, vado, ho sbagliato. Oppure, se eri più uno stratega, a quel punto magari avevi un amico o un'amica che conosceva quella e allora dicevi, senti, magari falle arrivare un messaggio, sonda un po' il terreno. Però era pericoloso perché magari avevo un amico, ad esempio, che una volta ho detto, guarda, mi piace quella ragazza lì e poi hai cercato di trombarsela lui. Cioè, il messaggero, il sistema, la piattaforma ai tempi non era molto affidabile, ecco. Era un po' rischiosa, incerta, oppure, capito, il messaggio non arrivava giusto, come il gioco, no? Tu dicevi una cosa e a lei arrivava tutta un'altra versione. Per cui, insomma, era un po' improvvisato, ricco di incertezze e poco efficiente come sistema. Oppure com'è che ti incontravi, ti conoscevi? Uscivi con gli amici e, op, guarda, ciao Monti, ma la conosci? Genoveffa? Ah no, Genoveffa, ciao, piacere Monti, ti conoscevi così. O magari avevi tra gli amici o tra i parenti qualcuno, capito, che era attento, diceva, ah no, la mia amica gingerella si è appena lasciata, guarda, potreste essere un buon match, no? E cercava di rifilartela. Sempre questa roba qua. Questa, altronde, era un po' la modalità. Il mondo è nato avanti così per secoli. Ci siamo sposati, innamorati, accoppiati in questo modo qua. Molto così, poco data, analytics, science, AI, machine learning, però è stato molto efficiente. Ha funzionato in 7.3 miliardi di casi, quindi funziona abbastanza bene come sistema. Oggi però la gente si controlla online e questo effettivamente cambierà le cose. Non possiamo far finta che non sia così. A me è la cosa che colpisce di più, premesso che quando dici si sono incontrati online, non è necessariamente che uno si sia incontrato sul Tinder di turno o sulla piattaforma, no? Di dating specializzata per quello. Ma può essere anche che semplicemente si è incontrato online e era in un gruppo Facebook e ti sei conosciuto lì e a quel punto poi ti sei visto fuori. E bam, cosiddetta CMC, Computer Mediated Communication, così si dice. Però la cosa secondo me importante, su cui invito tutti quanti a riflettere, è che tutte queste nuove generazioni, non avendo avuto il pregresso, lo storico, di quanto era dannatamente difficile riuscire a trovare la persona giusta o comunque una persona interessante con cui spendere qualche tempo, a quel punto ha perso un intero passaggio, no? Ed è abituata a un tool estremamente efficiente, che nel caso delle app di dating è clamorosamente efficiente. Cioè tu sei lì... Sì, no, sì, no, sì, no. Cioè è una scelta infinita, è un supermercato infinito dove puoi prendere un prodotto o un altro. Poi nel momento in cui ti metti insieme la domanda è se per caso quella roba va avanti rispetto alla semplice serratina, che cosa succede? Se per caso fai anche dei figli e ti sposi, come gestisci poi una relazione che non ha avuto quel passato un po' faticoso, no? Che è facile. E tu sei abituato di mentalità a poter sostituire in qualunque istante. E allora questo cambierà inevitabilmente i rapporti di coppia e ci saranno mille problemi da gestire, mille probabilmente opportunità nuove, però mille problemi da gestire sulle relazioni. Quindi mi piacerebbe chi si occupa di questi temi magari lasciasse qualche commento, qualche ricerca, qualche dato. Wow! Dai, mi fermo qua. Era giusto una curiosità, un rantolo volante. Però no, rispondi a questa domanda che mi interessa per capire se questo sondaggio è vero, questa ricerca non è un sondaggio, è una ricerca sia vera o meno. Come hai conosciuto la tua anima gemella? O se non hai un'anima gemella, come hai conosciuto la tua ultima anima gemella passeggera?